Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Per oltre due ore Alberto Angelini, il farmacista di Appignano, arrestato sabato scorso dai carabinieri con l'accusa d'avere fatto ottenere ad alcuni suoi clienti il Green Pass senza effettuare i tamponi, ha risposto alle domande del GIP di Ascoli a Annalisa Giusti, respingendo tutte le accuse a suo carico. Per ciascuno dei casi che gli vengono contestati, il farmacista ha fornito ampie giustificazioni sostenendo che i tamponi venivano effettuati e quindi successivamente il risultato del test, sia stato esso positivo o negativo, veniva inserito sulla piattaforma informatica. Tamponi che per giunta, come lo stesso Angelini ha riferito al giudice, venivano effettuati ad un prezzo più basso rispetto a quello praticato normalmente. È il suo difensore, l'avvocato Alessandro Angelozzi, che ha chiesto per il suo assistito la revoca degli arresti domiciliari a riferire sull'andamento dell'interrogatorio. Non v'è stato, secondo il suo pensiero, alcun elemento di falso perché quello che ha scritto era l'esito del tampone, così come è stato indicato. Il fatto che poi sia stata evidenziata la non presenza o presenza da parte degli operanti in riferimento alle immagini che sono contenute nelle telecamere non hanno assolutamente rilevanza per il semplice motivo che in un momento di affluenza, perché dentro il negozio c'entravano decine di persone, perdono, non negozio, dentro la farmacia, per cui potrebbero essere sfuggiti anche questi personaggi. Addirittura sono stati effettuati anche dei tamponi nella parte retrostante della farmacia perché c'era un altro ingresso che non era stato attinto dalle telecamere. Per cui ci sono moltissimi elementi che possono indurre a ritenere quella vicenda operata nella più perfetta buona fede. Si tratta soltanto di andare a verificare tutti quei chiarimenti documentali e non, e verbali che sono stati prospettati dall'Angelini. Alla fine di questo interrogatorio che è durato due ore, per cui, ripeto, con dovizia di particolari certosini senza soluzione di continuità, analizzando tutti i passi e rispondendo puntualmente alla richiesta formulate dal giudice, la difesa ha chiesto la revoca della misura che era fondata unicamente ed esclusivamente su un discorso di apprezzamento probatorio degli elementi.